Rush finale per una studentesca vivere e viaggiare licata che non ha più nulla da chiedere a questo campionato di C-Silver e girone unico. Il roster di Coacettore Castorina ha già largamente centrato l'obiettivo salvezza e nelle quattro gare che rimangono da qui alla fine del campionato potrà far ruotare gli uomini dando maggiore minutaggio a chi finora ha giocato meno. Teoricamente un obiettivo possibile da raggiungere ci sarebbe ancora. Capitan Falange e compagni potrebbero infatti provare a raggiungere il sesto posto attualmente occupato dal Green Basket Palermo e distante 4 punti. Ma sarebbe un piazzamento platonico. La riforma dei campionati non prevede infatti la disputa dei playoff promozioni con il salto di categoria che verrà centrato dalle prime due classificate. A retrocedere saranno invece le ultime quattro. Il primo di questi quattro match vedrà i giallo-blu di scena domenica al palafragapane contro la polisportiva Retusa Siracusa formazione di medio-alta classifica che però non ha anche lei nessun altro obiettivo da poter centrare. Pertanto si preannuncia una gara abbastanza soft. Diverso sarà invece il discorso alla penultima giornata quando capitano Alfredo Falange e compagni potrebbero essere arbitri di una retrocessione quella dell'FP Sport Messina impegnato nella lotta per non scendere. La studentesca vivere e viaggiare però per tradizione non ha mai regalato nulla e pertanto c'è da scommettere che anche quest'anno onorerà fino in fondo le gare che restano da giocare da qui alla fine di un torneo di Cisilver che lo ripetiamo per l'ennesima volta è andato ben oltre le più rose aspettative di inizio stagione con la salvezza centrata con un larghissimo anticipo.